I temi dell'ambiente, i perimetri del parco regionale Sirente-Velino che si stende su un'area di 91.000 ettari non vanno toccati. L'affermazione di WWF e Legambiente che sottolineano il valore dell'area protetta istituita nel 1998. Silvana Ferrante. Ricorreremo in tutte le serie opportune contro questa legge che, approvata, rappresenterebbe un passo indietro di 10 anni per la tutela della biodiversità. WWF e Legambiente Abruzzo vanno all'attacco della proposta di riperibitrazione del parco regionale Sirente-Velino che martedì sarà l'attenzione del Consiglio regionale. La proposta, primo firmatario il consigliere PDL Luca Ricciuti, prevede un intervento in aree del parco comprese tra i comuni di Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo. Intervento contestato dagli stessi amministratori dell'area protetta. Simone Angelo Sante, presidente del parco regionale Sirente-Velino. L'area in oggetto è un'area centrale, è il cuore del parco regionale del Sirente-Velino. È un'area sulla quale sono stati fatti diversi interventi finanziati dalla comunità europea per la tutela della biodiversità. E soprattutto è un'area che ricade nell'accordo del PATOM, della protezione dell'orso marsicano. E con tutto quello che è successo, con le polemiche che ci sono, le giuste polemiche che ci sono per quello che sta succedendo agli orsi in particolare, sembra una proposta che quantomeno deve essere rinviata in commissione. Il consigliere Ricciuti difende la proposta sostenendo che l'area rimarrebbe a protezione speciale, non si cementificherebbe nulla ma andrebbero rinegoziate le attività del territorio. Chiaro il monito indirizzato ai consiglieri regionali dalle associazioni ambientaliste. Luciano Di Tizio, presidente WWF Abruzzo. La scelta giusta è quella opposta, quella di potenziare i parchi, di farne altri, di riuscire a proteggere l'intera regione, perché quello è un valore aggiunto per l'Abruzzo. È su questo che bisogna puntare. Speriamo che la regione, anche perché siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale, io spero che i consiglieri si rendano conto che quello che viene proposto dal consigliere Ricciuti è una proposta largamente in visa alla gran parte degli abruzzesi. Quindi mi auguro che capiscano che fare questa scelta è autolesionistico, in particolare la vigilia del voto.